La Lazio vince contro lo Zenit in questa partita di Champions League di ieri 24 novembre 2020 in casa sua quindi allo Stadio Olimpico di Roma una Lazio avvincente, una Lazio potente rigenerata e ritrovata in forma fisica smaiante, 3 gol, 2 di Ciro Immobile al terzo minuto di gioco al 55 minuto e di Marco Parolo Parolo al 22esimo minuto di gioco per la Lazio per quanto riguarda invece lo Zenit un solo gol a opera a firma di Artem Zuba al 25esimo minuto di gioco lo Zenit non riesce a prendere palla, non riesce a conquistare punti, non riesce a fare grandi cose rimane spiazzato, rimane in maniera distinta a non compiere grandi situazioni purtroppo si perde l'animo, purtroppo non riesce a soddisfare la situazione a livello di gioco non sblocca il risultato, non sblocca la situazione non lo Zenit in cui appannato, appannabile, la doppietta di Immobile sorprende riesce a soddisfare i palati anche più fini, le Lazio e non solo vi ringrazio per l'ascolto, poi ti ha la Lazio, divo con serenità, sono normalista però la Lazio è giocato bene, ciao